17 vittorie utili consecutive dei Rimini. La maledizione di un numero scaramantico non è stata battuta, ma certamente i Rimini esce vittorioso anche nello sconto con il sasso Marconi che col pareggio allunga più 4 sull'inseguitrice classe uscita sconfitta dal match col Castrocaro e ora sorride a una stagione che l'ha vista anche condurre alla classifica prima di essere travolta dalla 5a dei Rimini nei giorni di andata e di rimanere a guardare nel mercato di riparazione, quando i migliori acquisti li eseguivano proprio i rivali. 17 non sarà numero fortunato, gatto nero non sarà, ma semmai un gatto bianco-rosso che agguanta la propria preda passando in vantaggio prima di farsela sfuggire una volta apparecchiata la tavola con la porzione Noselli che inventa i gol della domenica. Nelle prime battute vediamo il richiuto di titolare, proprio l'argentino dalla bandierina a servire Brighi che di testa mette alto. Noselli inizia il suo personal show con Scotti, dribbling in aria, tiro secco che Scotti le spinge di piede. La pressione del sasso è notevole, Zecchini recupera il pallone e cerca di sopprendere Scotti dalla distanza, ma senza fortuna. Benatti, pennella per Zecchini che mette fuori, gioco fermo per infortuni a corso proprio a Zecchini che lascerà il campo a Tonelli. Punizione il sasso, botta di Lisa, palla fuori. Dall'altra corsia è la volta di Cortese, assiste per Noselli che di testa non inquadra il bersaglio. I dimini esseri di Sena e Benatti con un numero dei suoi chiamano a respinta l'attento Scotti. Rientro in partita dei biancorossi con l'asse Fabri Cicarevic con quest'ultimo che di testa alza la mira. I biancorossi tentano dalla distanza, ma non incidono, in chiusura di più a tempo, un'azione per parte. Cicarevic, servito da Ricchiuti, tenta la conclusione a giro, ribattuta da un difensore sui piedi Fabri che mette out. Dalla parte opposta Benatti con una solo personale mette nelle condizioni nuovamente Scotti di dover intervenire. Nella ripresa Guiebre si mostra travolgente, assiste al centro, arriva a botta sicura a Lotti che trova una respinta di un difensore. Carambola fortunata sui piedi di Fabri che da terra trova il tapì vincente e gioia meritata per il numero 7 biancorosso. La risposta del sasso è imminente. Benatti entra in area di rigore e viene toccato da carne secchi per il direttore di gara trattarsi di rigore. Sale l'attenzione sugli spalti è il caso di bere tè per un giovane bambino e birra per un saggio tifoso. Ma Noselli dagli 11 metri si lassi per notizzare da Francesco Scotti e occasione che sfuma. Noselli vuole farsi perdonare con un nuovo assolo personale, trova solo Scotti sulla propria strada a negarli la gioia dei gol. A questo punto Tamai dalla tribuna controlla il cronometro. Dal proprio telefono sono le 16.44, ancora troppo presto. In effetti Lisa sfiora la marcatura con un tiro che si alza sopra la travessa di Scotti. Più preciso poco dopo quando lascia partire un tiro a giro su quale Scotti si supera. Il Rimini prova a venire fuori dalla propria aria, Fabri pennella per i chiuti che di testa mette alto. Mentre in profondità dall'altra parte Cortese una volta raccolto il pallone scarica il destro tra i guantoni di Scotti che vola a negarli la gioia della marcatura. Cortese da calcio piazzato serve Noselli anticipato sul più bello di un soffio da Brighi. All'83 però Noselli viene esteso da Gioa che verrà nell'occasione ammonito. L'ex a sola studia la posizione, un'occhiata a Scotti e giro del compasso a cercare l'angolo preciso nel set alla destra di Scotti. 1-1 e gioia incontenibile per l'attaccante in maglia numero 7. Nel frattempo animi che si accendono in tribuna, fischio finale, scambio di magliette e saluti, in chiude giocatori biancorossi e propri tifosi per ringraziare. Mentre Sansomarconi come tutte le altre compagini ha visto la propria ferma di speranza nei confronti dei Rimini spegnerci alla distanza poiché la band di Mastro Nicola è partita diretta verso il nuovo treno chiamato Serie D.